La rincorsa della Vastese si interrompe bruscamente allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli, dove la formazione aragonese cade per 2-1, confermando che per fare il salto di qualità certamente manca ancora qualcosa. Prova in colore dei biancorossi di Montani, costretto ad inizio ripresa un triplo cambio che sa di insoddisfazione, ma che manca il terzo successo consecutivo dopo aver regolato a cavallo delle festività natalizie Agnonese prima e Matelica poi. Solito 4-3-3 per Montani, con Conè e Leonetti a dar sostegno a Sciba, dietro Sbardella e Del Duca, con i confermati De Meio a destra e Mataloni a sinistra. Capo e Lupo a dettare i tempi di gioco. Ma l'approccio dei Romagnoli è decisamente migliore. Al quarto è Zuppardo a farsi vedere con un diagonale rasoterra da sinistra, pallone che però termina sul fondo. Ancora la squadra di Mastro Nicola a farsi vedere al minuto numero 6. Bonandi cerca e trova la torre ancora di Zuppardo, il colpo di testa libero all'Owati, destro che non c'entra lo specchio della porta. Bonandi allora decide di mettersi in proprio quando ci prova dai 30 metri col Mancino, ma anche in questo caso non c'entra il bersaglio grosso. Come però farlo Wati al dodicesimo. Scarponi ancora per Bonandi, il suo sinistro è ribattuto dalla difesa ospite, ma è proprio Lohati con un colpo da biliardo a centrale il palo più lontano e trafiggere Patania. C'è praticamente solo la Sammorese in campo. Tutto passa prevalentemente dai piedi di Bonandi, che al quarto d'ora libera Sapucci. Patania si fa a Valere respingendo coi pugni però. Poco dopo la mezz'ora è Santoni a provare la via del raddoppio, ma è ancora Patania a dire di no. Montani allora rivoluziona la Vastese, dentro Fiore, Iarocci e Di Giacomo, Perlusso, Conè e Mataloni. Qualcosa si intravede ma non sarà sufficiente. Sciba cerca di suonare la sveglia al cinquantesimo dalla distanza, conclusione parata, così come quella tre minuti più tardi proprio di Fiore. Valdassari non è mai chiamato in causa, perché persino il capo cannoniere del Girona Leonetti sembra avere le polveri bagnate, servito poco e male. E la San Maurese è letale un minuto più tardi. Rosini pesca Zuppardo con un lancio preciso, la punta controlla e col destro firma il 2-0 di casa. Colpo durissimo per la Vastese, che non riesce a reagire, anzi rischia di prendere anche il tris al 62esimo. Il tocco vincente sugli sviluppi di un corner di Lombardi è fermato dalla terna abritrale per una posizione di fuorigioco. Scampato all'ennesimo pericolo, Leonetti si fa vivo al 66esimo, con un destro da fuori bloccato da Baldassari. A 12 minuti dal termine però la Vastese accorcia le distanze. Angolo di Fiore, testata vincente di Sciba, tiro troppo potente che piega i guanti di Baldassari. Ma è l'ultimo sussulto di un match che stoppa le ambizioni di rilancio dei Biancorossi. Nulla da fare, la classifica rimane discreta, ma vincendo avrebbe potuto cominciare ad essere interessante. Mercredi però si torna in campo. All'Aragona arriva la San Giustese quarta della classe. La Vastese ha l'obbligo di dimenticare il Macrelli e una Romagna che sembra non portargli grande fortuna.